ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video anzi un video flash potevo quasi fare uno short come vedete alle mie spalle la nuova ferrari 499p hypercar che tutti aspettavamo che fosse diciamo annunciata e implementata nel nuovissimo le mans ultimate l'uscita prevista per il 20 febbraio ritardata rispetto alla fine di questo 2023 studio 397 è fiera di annunciare che è stato fatta che è stata sviluppata in strettissima collaborazione con il team proprio ferrari per cercare di ottenere un'esperienza di guida il più fedele possibile alla realtà e oggi è un giorno particolare perché annuncerò che testeranno proprio virtualmente la ferrari e questo video che state vedendo è proprio una delle primissime apparizioni che studio 397 sta concedendo e durante la giornata dove dovrebbero uscire sicuramente foto e altri trailer altri video quindi ragazzi rimanete sintonizzati sul gruppo le mans ultimate di facebook e dei canali ufficiali studio 397 perché oggi ci faranno brillare gli occhi se questa flash news vi è piaciuta lasciate un pollice in su non esitate a lasciare un commento ditemi cosa ne pensate iscrivetevi al canale e ricordatevi ragazzi che domani alle 16 e trenta su questo canale sim drivers ci sarà la live del quarto episodio del il salotto del sim raiser insieme a me maurizio grasso e antonio fiorillo per la presentazione con tre ospiti d'eccezione francesco svelto alessandro cappa e carlo abbiate noi ci vediamo prestissimo da fabrice è tutto un abbraccio ciao forse pomeriggio faccio una live per testare la nuova fisica di race room venitemi a seguire ciao